Il cantaggiro oggi è il... Bessisori! Scusate! Bella, fratello! Allora, lo faccio dire a voi perchè è troppo bello! Abbiamo fatto il quattro del cantaggiro oggi e lo faccio dire a voi perchè è stupendo come lo dicono Voi siete i... Bessisori! E' un'altra cosa! E' corretto! Bisogna chiamarti come si chiamano Amici, giustanti, onori Allora, una curiosità Voi siete il fratello e sorella? Sì, siamo il fratello e sorella Chi è il più grande? Il più grande sono io, 25 anni e lei ne ha... E tu? Eh, per esempio l'ho complicata da 20 anni No vabbè, dalla memoria che comincia a baciclarmi Dove forse ha l'emozione No, perchè di quante sono ancora convinta che ne ho diciamo Quello stesso conflitto Quindi non è l'emozione? E invece parliamo dell'emozione Che cosa è stato per calcare questo palco? Così da dare un po' a ritare? Sì, ovviamente è un'emozione grandissima Perchè comunque, tanto il palco del centro giro E' una cosa che ho semplicemente Poche volte nella vita E per il resto non vedevamo l'ora di stare sul palco Eravamo felici, scattanti, energici E siamo riusciti a smettere quello che volevamo tramettere Ti ha visto, ti ha visto una bella energia Una bella carichetta subito E' stato divertente, insomma, vederti di pire Ma, fratello e sorella, chi ha scritto questa canzone? E' entrambi Io ritornello per voi E quanto si litiga a scrivere una canzone? Quanto si litiga? Si litiga Comunque, ovviamente lei è più melodica E' cantante Volevo fare le nostre Canto più cantare, io oggi sono più rapper Però è giusto che ci mettiamo da sotto Quello che si deve fare E poi ci metti un tanto con quello che avete ascolto questa sera Giusto, è importante entrare in una silenzia Beh, io vi auguro il grandissimo tocco al lupo Aspettando le situazioni di questa serata E cosa vuoi dire? Vedere qualcosa in casa? Voglio dire una cosa importantissima Ciao 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 Ciao